Il presidente della Polonia, Duda, ha annunciato di aver conferito all'attuale primo ministro, Mateusz Morawiecki, l'incarico di formare un nuovo governo. Benché infatti il suo partito abbia perso la maggioranza assoluta in Parlamento, è risultato comunque il singolo movimento più votato, di cui la scelta del capo di Stato. Sostenitore dell'attuale esecutivo, Duda aveva spiegato che i due candidati alla carica di primo ministro sono lo stesso Morawiecki e il leader dell'opposizione, Donald Tusk, anche egli ex primo ministro polacco ed ex presidente del Consiglio europeo. Nonostante l'incarico di Duda, la strada per Morawiecki appare comunque in salita. Non è affatto detto, infatti, che il premier conservatore possa trovare facilmente una maggioranza parlamentare pronta a sostenerlo. Il tentativo di formazione di un nuovo governo potrebbe dunque non andare a buon fine e la Polonia potrebbe trovarsi a dover aspettare prima di avere un esecutivo nel pieno esercizio delle proprie funzioni. In caso di mancanza di una maggioranza, Duda ha fatto sapere che l'incarico verrà conferito a Tusk. Grazie a tutti.